Tutti che vogliono fare lo stadio di Perugia. Petrolini quando recitava Nerone aveva un'espressione e Roma sarà più grande e più bella che Pria. La stessa cosa si può recitare per quello stadio che tutti vogliono fare a Perugia. E lo stadio Curi sarà più grande e più bello che Pria. Fosse vero, caro e nobile Tasso, innanzitutto non si capisce sul metodo, innanzitutto non si capisce per quale motivo, per quale recondito motivo la città non deve sapere quali sono i progetti sul Renato Curi, se non attraverso informazioni che sono fatte uscire, filtrate, un po' a strozza e bocconi, qualcuno dice qualcosa, qualcun altro dice qualcos'altro, si spizzica sulla stampa locale e sappiamo per certo che appunto è stata costituita una società che si chiama Arena Curi, dove ci sono dei perugini, costruttori, c'è Santo Padre, eccetera. L'ultima notizia è che su un business di questo tipo, che si aggira, dice teoricamente tra i 60 e i 70 milioni di investimenti, l'Arena Curi avrebbe chiesto al Comune di Perugia 12 milioni, e cioè il Comune mette a disposizione il terreno, lo stadio e in più questi investitori privati chiedono al Comune 12 milioni. Io invito l'amministrazione comunale, per quello che conto, a valutare attentamente questa proposta, perché io credo che la città, Perugia, la nostra città, le risorse che ha è giusto che non le investa sul calcio professionistico in questa maniera. Per restare sulla dimensione sportiva e sull'impiantistica, i numeri ci dicono che il 10% delle scuole del territorio comunale o non sono dotate di palestra o si arranciano in locali che non sono indirizzati e nati per essere una palestra, questo creando malessere negli allievi, discreditando le ore di educazione fisica, eccetera, eccetera, con tutto quello che comporta. Di più, questa è una città che non ha una piscina olimpica, che non ha una piattaforma per i tuffi, che non ha una pista d'atletica da otto corsie per le gare altissimo e a alto livello nazionale e internazionale. Cioè c'è una vicenda dell'impiantistica sportiva di base per garantire lo sport di base e l'attività motoria dei cittadini che secondo me ha la priorità su il nuovo Renato Curi. E quei 12 milioni sarebbe bene allora investirli sull'impiantistica sportiva e non su un Renato Curi che sinceramente nel momento in cui in un Perugia Ternana abbiamo 10.000 spettatori, la dimensione di Perugia è questa, nonostante che ci sia la gradinata chiusa, dopo che è stato messo a punto la curva nord, io credo che si possa benissimo mettere in funzione e garantire la funzionalità della gradinata. E comunque invito l'amministrazione comunale a prendere in mano il progetto sul Renato Curi che è un progetto di rifacimento, di ammodernamento dello stadio senza i fronzoli, di buttarlo giù, di andare a giocare a Gubbio, di farci gli alberghi. ma invece una riqualificazione dell'impianto proprio pensato dall'ingegnere Paolo Belardi, un amante della città, un professore di ingegneria che ha studiato con costi relativamente bassi, una messa a punto del Renato Curi ancora per lunga vita del Renato Curi che sarebbe appunto più bello e più grande che Pria.